Folla delle grandi occasioni a Silvi per accogliere il leader della Lega nonché Vice Premier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini tornato in Abruzzo per festeggiare il primo sindaco lechista della Regione a tutto campo i suoi interventi prima nella sala consigliare con le autorità, gli amministratori, con il neosindaco Andrea Scordella e il coordinatore Bellachioma e poi in piazza per il comizio che ha concluso la sua visita Immigrazione, rapporto con l'Europa, sicurezza dei cittadini, decreto dignità, legge Fornero, sanità ed elezioni regionali in Abruzzo tra gli argomenti più importanti affrontati dal capo politico della Lega Signor Ministro, secondo alcuni osservatori sta utilizzando il pugno di ferro con gli immigrati? No, il pugno di ferro, i confini ci sono, vanno protetti, in Italia arrivano donne e bambini che scappano davvero dalla guerra che sono il 10% di chi passa il suo tempo in albergo in giro per l'Italia per gli altri l'unica via è quella di rimanere là da dove scappano Decreto di dignità, 8.000 posti di lavoro in meno in un anno, il PD addirittura dice 80.000 Facciamo 800.000, sì, noi siamo andati al governo per cancellare posti di lavoro e rendere l'Italia un paese più precario e più insicuro No, questi sono numeri di qualche scienziato a tavolino che la fabbrica, il negozio la conosce poco A tenere banco però sono state le imminenti elezioni regionali La Lega vuole il candidato presidente e il doppio forno resta aperto o con il centrodestra mai citato o con i 5 Stelle elogiati da Matteo Salvini dal palco il quale è stato anche costretto a cambiare la camicia in corso d'opera perché zuppa di sudore a causa del caldo afoso Un boato è salito dagli oltre 3.000 presenti, un apoteosi, quando dal palco è stato lanciato lo slogan della campagna elettorale libereremo l'Abruzzo dall'Alfonso e le elezioni saranno un referendum sul suo operato La Lega è pronta anche a conquistare la regione Abruzzo? No, conquistare si conquistano i terreni quando si gioca a risico qua offriamo un'idea di Silvi, di Abruzzo e d'Italia ai cittadini che apprezzano fondata sul diritto al lavoro, sul diritto alla pensione, sul diritto alla salute, sul diritto alla sicurezza e quindi sono contento personalmente di poter passare dalle parole ai fatti La commissione sulla incompatibilità di D'Alfonso però al Senato ancora non si riunisce Contiamo di chiudere tutte le commissioni vacanti nel giro dei prossimi giorni e contiamo che gli abruzzesi possano avere un governatore a tempo pieno il prima possibile Il leader della Lega ha glissato però sulla domanda del nostro direttore Emanuela Petescia relativa all'atteggiamento dei pentastellati nei confronti della stampa Cosa pensa del trattamento che talvolta alcuni esponenti di governo del Movimento 5 Stelle riservano a noi giornalisti? Faccio il giornalista in aspettativa non retribuita così almeno quelli del PD non fanno altre otto interrogazioni parlamentari Ognuno ha la sua sensibilità, io adoro la critica, querelo poco quando la critica non è critica ma è insulto e menzogna, querelo Da giornalista ne ho ascoltate tante, da ministro ne sto subendo peggio di Bertoldo in questi 46 giorni Diciamo che è un governo, probabilmente il governo più attaccato della storia della Repubblica italiana quindi ogni tanto qualche reazione di nervosismo posso anche comprenderla Ovviamente soddisfatti dell'iniziativa il sindaco di Silvi, Andrea Scordella e il coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma Una bellissima serata, dobbiamo ringraziare veramente il senatore Matteo Salvini, il nostro segretario e il nostro ministro perché è un uomo di parola, è venuto, ci ha onorato e siamo felicissimi di questa bellissima giornata qui a Silvi Aveva detto che se avessimo vinto a Silvi con il candidato della Lega lui sarebbe venuto Non è stato semplice, non è stato facile, però insomma siamo veramente contenti Il nostro partito in Abruzzo non è più una comparsa, bensì un protagonista In altri termini chiedete il candidato presidente come Lega? L'ho chiesto il 5 di marzo Avete il nome? Non glielo posso dire Presente alla Kermes anche Gianluca Zelli, già amico di Stefano Parisi ora è impegnato ad organizzare liste civiche contro l'attuale governatore